Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, video veloce sui pronostici sulla 23esima giornata di Serie A che inizierà stasera con Lazio-Empoli e credo che la Lazio vincerà anche perché la Lazio è una squadra particolare non fallisce mai le partite con le piccole, fallisce spesso le partite con le grandi quindi direi che assolutamente la Lazio secondo me vincerà con l'Empoli domani invece Chievo-Roma, partita già un pochino più difficile, la Roma si gioca gran parte della stagione e Chievo si gioca gran parte della salvezza, credo che vincerà la Roma ma attenzione perché Chievo ha già fermato l'Inter e il Napoli non è assolutamente una squadra da sottovalutare soprattutto per una Roma che anche col Milan ha fatto vedere di essere in ripresa ma di non essere ancora fuori dalla crisi Sabato alle 18 Fiorentina-Napoli, è una partita che l'anno scorso mi ricordo molto volentieri perché ci diede di fatto poi lo scudetto ma è una partita secondo me che il Napoli quest'anno vincerà anche perché la Fiorentina credo che ormai da quella fine stagione si dedicherà principalmente alla Coppa Italia torneo che può portare anche a casa comunque è una bella partita ma metto il 2 del Napoli anche se ovviamente da Juventino spererei in un mezzo passo falso del Napoli un mezzo passo falso basterebbe ma vincerà il Napoli sicuro Sabato alle 20.30 Parma-Inter, qui non ho dubbi metto il 2 dell'Inter sia perché l'Inter non ne può non vincere tutte secondo perché il Parma ha dato l'anima per pareggiare contro la Juve quindi credo che alla fine la somma dei fattori porterà un Inter vincitrice al Tardini anche perché il Parma fa più punti in trasferta che in casa Domenica Bologna-Genoa, il test per vedere veramente quanto sta bene il Bologna di Mijailovic che ha vinto una partita importante con l'Inter si sta pian piano, si è un po' risollevata con quella vittoria credo che sarà una partita aperta io credo che alla fine porterà a casa un bel pareggio tutti e due un bel pareggio che fa comodo a tutti e due Sadoria-Frosinoni invece secondo me dopo la brutta partita della Sadoria con Napoli qua credo che la Sadoria vincerà tranquillamente contro i Ciocciari quindi 1 Atalanta-Spal non ci perdo neanche molto tempo l'Atalanta è così in forma che poteva perdere punti solo col Cagliari perché veniva da una settimana di partite, tre partite in una settimana e non ha perso, anzi ha vinto adesso credo che vincerà tranquillamente così come credo che vincerà il Toro contro l'Udinese che mi sta pian piano sempre più preoccupando per la zona salvezza ma credo che alla fine il Torino vincerà l'Udinese deve stare molto attenta le due partite poi di domenica alle 18 e domenica alle 20.30 sono al 18 al Mapei Stadium, Sassuolo Juventus e alle 20.30 Milan Cagliari il Sassuolo al Mapei Stadium ha portato tanti punti nelle partite contro la Juve non ne ha giocate tantissime, sono state fatte quattro partite la Juve ha vinto due volte una volta ha perso, una volta ha pareggiato credo che la Juve questa qua la debba vincere la debba vincere dopo il pareggio col Parma mi fido della Juve quindi metto il 2 ripeto che il deve vincere credo che sia molto molto importante per rafforzare il concetto Milan Cagliari io credo che il Milan stia così bene in questo momento avendo trovato anche Piontek qui che non rischi di perdere punti quindi metterei assolutamente con tranquillità l'1 al Milan ragazzi chiudo qua questo video a me non resta che salutarvi dalle puntate con i prossimi video del canale ciao